Sì, allora mentre frugo dentro al computer vi ringrazio per avermi dato questa possibilità, in realtà ci tengo molto perché avendo pur sempre fatto attività di laboratorio credo che quella del biologo nutrizionista sia una cosa invece molto importante. Come si fa ad andare indietro? E rispetto anche all'introduzione che è stata fatta a questo convegno, ritengo che molti aspetti innovativi dell'alimentazione possono essere veramente meglio compresi da un biologo che da un medico, soprattutto rispetto a queste grosse innovazioni che ci sono state negli ultimi anni. Allora, prima un paio di istruzioni per l'uso di questa chiacchierata, mentre faccio partire il cronometro così non mi sbaglio. Time. La tecnologia non fa per me, nemmeno con l'orologio. Sono vecchio. Allora, ieri ho cambiato tutte le diapositive perché ho realizzato che parlare solo ed esclusivamente di epigenetica in un contesto così vario sarebbe stato paradossalmente restrittivo, nel senso che il discorso sarebbe restato un po' appeso. Quindi, di mia spontanea volontà, mi perdonerà chi ha organizzato questo evento, ho cambiato anche il titolo, parlerò anche di epigenetica, giuro. Però il titolo è un po' cialtrone, è questo. E in questi 20 minuti parlerò un attimo di come è cambiato, a mio parere, ma insomma non sono solo a pensare questa cosa, il rapporto fra alimentazione e scienza in generale, e quindi anche per chi si occupa di nutrizione pratica come voi recepisce questi nuovi cambiamenti. Questi 20 minuti rischieranno di essere un po' nichilisti, un po' pessimisti, ma in realtà non è così. Io penso semplicemente che ci sia un grosso lavoro in progress e che tutti quanti, tutti coloro che si occupano di nutrizione e salute, ne devono tenere conto. Con molta calma, senza anticipare i tempi, e lasciando rispettivamente a chi si occupa di cose diverse, il tempo di capire che cosa diamine sta venendo fuori dal calderone. Allora, molto rapidamente, che cosa sappiamo già? Noi sappiamo queste cose, ve le riassumo molto rapidamente, che sappiamo che diete improprio sono un fattore di rischio per patologie, sappiamo che diversi geni che vengono modulati, la cui espressione viene modulata dalla dieta, hanno un ruolo nell'emergenza e nell'importanza di alcune patologie. e sappiamo anche abbastanza bene a che livello che alcune molecole di interesse nutrizionale sono in grado di modulare l'espressione genica. Sappiamo anche, e poi su questo ci andremo più a fondo, che il nostro profilo individuale ha una grossa importanza sull'effetto che ha la dieta sul nostro stato di salute. Una cosa molto importante, sulla quale poi dovremmo ritornare, è che la nutrizione personalizzata, ovvero quella che viene definita anche in modo un po' sartoriale, è probabilmente quello che noi vogliamo. Noi già in qualche modo facciamo una nutrizione personalizzata, quando dividiamo la popolazione in gruppi, bambini, adulti, adolescenti, gestanti, anziani o quant'altro. Un giorno forse potremo, orientativamente mi sbilancio, forse fra una decina d'anni, potremo raggruppare gruppi di popolazione in base a delle macrofamiglie genetiche e cercare di essere più precisi su alcuni fabbisogni nutrizionali. Al momento, senza fare nessuna polemica, la presenza sul mercato di test, di kit, per la valutazione di alcune varianti genetiche a parere mia è assolutamente ingiustificata e se non addirittura dannosa, ma su questo anche ci ritorneremo. Allora, uno dei grossi problemi, ah, vi chiedo scusa per avere molte delle diapositive in inglese, ma non ho fatto in tempo a tradurle tutte. Uno dei grossi problemi del nutrizionista, diciamo, dico pratico, nel senso di quello che poi si occupa di nutrizione, con chi consuma, e non è il laboratorio che molto spesso abbiamo a che fare con un termine operativo di difficile definizione, che è quello della salute. Mentre è facile definire patologia, io dico, un'ipercolesterolemia è quella colesterolemia di sopra di 240, no, faccio 250, vabbè, come te pare. Salute è un po' più complicato, perché la salute non è semplicemente un'assenza di malattia, come direbbe il famoso medico De Pinocchio, quello è vivo perché non è morto, se me lo ricordo io ve lo potete ricordare anche voi. E' un concetto molto più complesso, che presuppone la capacità di un individuo di mantenere i propri, insomma, non è l'élan vital, ma insomma qualche cosa che consente di vivere, e vivere bene. E' in realtà un concetto molto complesso, che ho cercato di definire, qui una versione vecchia di PowerPoint, mi sta sbullonando le diapositive, però è un integrale di quello che succede, di quello che si combina fra la nascita, anzi anche prima della nascita, vedremo per fenomeni epigenetici, la trasmissione transgenerazionale di fenomeni epigenetici, dell'esposizione all'ambiente, poi vedremo che cosa, e il nostro personalissimo genoma. Vedete che sono tutti termini piuttosto complicati, abbiamo detto, salute è difficile da definire, come lo definiamo? se uno è vivo e non è morto, se uno è sano perché non è malato, io sono contrario a questo tipo di definizioni. L'esposizione a cosa? Abbiamo moltissimi variabili, dieta, esercizio, tossici e quant'altro, e il genoma, che dovrebbe essere l'elemento più stabile di questa equazione, in realtà scopriamo che non è poi tanto stabile. Quindi abbiamo tre termini operativi, che definiscono una situazione dinamica nel tempo, che non sono facili da definire. In queste immagini vi volevo far vedere cosa significa questo, e introdurre un concetto che è molto importante per voi, insomma in generale per la scienza, perché è un concetto dinamico di omeostasi. Al di là della definizione specifica di omeostasi, vedete che ci sono queste variazioni di una qualunque variabile biologica all'interno di un intervallo. Questo intervallo, in accordo con quello che dicevo prima, ma contrariamente a un intervallo che definisce una patologia, non è molto arbitrario. Nel senso che appunto, come dicevo dell'ipercolesterolemia o della pressione alta che è fisso a superiore a 90, 150, o quello che vi pare, qui questi limiti che definiscono la salute sono quelli all'interno del quale è ancora possibile un ritorno verso una situazione di controllo. Quando da questa situazione di controllo si esce in maniera senza una possibilità di ritorno, si parla di patologia. Quindi finché restiamo lì dentro e esistono dei fenomeni nascosti, il solito esempio abusatissimo dell'iceberg, il piccolo iceberg che nasconde poi, che è la patologia, nasconde di sotto fenomeni biochimici, al di sotto dei fenomeni biochimici, dei fenomeni molecolari che poi spostano queste fluttuazioni ancora in un intervallo emostatico fuori dall'intervallo emostatico stesso, parliamo di fasi precoci di una patologia o di fasi tardive di patologie che possiamo affrontare o attraverso un intervento nutrizionale o con un intervento farmacologico. Quindi da tutto questo che cosa succede? Che abbiamo un movimento un po' caotico e queste tutte recenti teorie del caos che forse avete sentito vi possono anche aver affascinato ne dobbiamo tenere conto. Caos nel senso che abbiamo dei sistemi complessi e non solo abbiamo dei sistemi complessi abbiamo diversi sistemi complessi che interagiscono uno con l'altro tanto per semplificare ve ne ho indicati alcuni abbiamo una grossa complessità dei percorsi metabolici che conoscete benissimo complessità dovuta alla variabilità genetica fra individui che è elevatissima e che molto spesso porta ad effetti molto maggiori che non quelli che ci si può attendere da un trattamento per esempio la complessità che deriva da modifiche epigenetiche complessità dovute alla variabilità della matrice alimentare diciamo una mela quale mela? per dire la complessità dovuta all'interazione fra queste variabili ma per esempio ho volutamente dimenticato la variabile dovuta all'attività del nostro microbioma intestinale e tante altre probabilmente anche quella diciamo dovuta probabilmente a fattori psicogene o quello che volete faccio un esempio di queste complessità allora questa è una reazione che tutti quanti biologi i colleghi biologi conoscono benissimo è la prima che si affronta nel percorso nella descrizione della metabolizzazione dei glicidi ed è molto semplice ma se la inseriamo anche in questa figura che voi conoscete benissimo perché è legata all'Henninger vedete che di posizioni in cui glucosio e glucosio 6-fosfato è troppo semplice prodotto un enzima ce ne sono moltissime e se consideriamo anche il contributo di ATP e ADP in tutto questo cominciamo a vedere che le cose sono un po' complicate ma vi dirò di più che noi non siamo dei mangiatori di glucosio salvo qualche matto che non è rappresentativo in questo contesto siamo dei mangiatori di cose molto complesse che non contengono o almeno non contengono solo glucosio quindi quando ci troviamo a dover discutere a dover verificare cosa succede in seguito a uno stimolo alimentare non è così semplice abbiamo delle cose molto più complicate e dobbiamo tenere conto delle differenze interindividuali che vi dicevo sono grossissime e anche di che cosa succede incidentalmente la mia melanzana alla parmigiana che non raccomanda a nessuno è probabilmente diversa da quella che si fa in un altro contesto geografico per esempio o in un altro contesto o in un'altra cucina e anche quello che può succedere nel corso del tempo dove ovviamente variano alcune delle variabili fondamentali della biochimica insomma delle capacità metaboliche di un singolo individuo allora passiamo adesso alla seconda complessità i più giovani non sanno che accidenti siano queste due figure quelli che hanno l'età mia più o meno sì e sono due personaggi che ho scelto nel web perché rappresentano un po' le sono emblematiche di alcune cose tipiche il signore Cecciotto alla sinistra è uno statista inglese che era noto per fumare come un turco mangiare in maniera smodata poi una dieta piuttosto nota per essere piuttosto il corridore non solo era corridore non si alzava dalla poltrona per raccogliere il sigaro che gli era cascato ma se c'era il maggiordomo glielo raccoglieva lui e insomma mora 81 anni felice il signore magro e sportivo sulla destra invece è l'inventore del giochi l'inventore del giochi che non proprio era uno di quelli che proprio puliva il prosciutto insomma poi correva perché lo faceva di mestiere e è morto a 41 anni esattamente come il babbo io ci rido ha fatto una vitaccia come i moscerini dagli le ali non li fai accoppiare ma fanno una vitaccia e lui ha fatto esattamente questo però è vissuto anche poco quindi non è servito a niente questo per dire che evidentemente c'è una forte componente genetica nell'interazione fra alimentazione e salute alimentazione e stile di vita in generale e patologie è chiaro che siamo tutti diversi l'uno all'altro ognuno di noi in base a un lunghissimo processo evolutivo che ha caratterizzato tra l'altro una specie che ha presente una variabilità elevatissima noi siamo una specie estremamente variabile meno male e trovo poi occasionalmente nella vita la condizione migliore per ottimizzare le proprie capacità genetiche come questi due signori vedete qui rappresentato chiaramente cosa porta qualcuno ci prova e ci riesce anche quel signore è alto un metro e sessantuno e ha giocato nella NBL nella Lega Maggiore con buoni successi per diversi anni nelle Premier League e questo ovviamente comporta anche una differenza fra alcune opzioni che insomma molti di noi diventando vecchi possono dover affrontare e c'è una possibilità di scegliere se affrontare un certo tipo di invecchiamento o un altro tutto questo in termini molecolari e qui chiedo un'altra volta scusa le cose che dico per molti di voi saranno scontate vecchie per alcuni di voi saranno troppo semplificate o troppo accennate facciamo una media la variabilità fra individui dipende in buona parte non totalmente ma in buona parte da questo tipo di variabilità che è quella detto di variabilità sul singolo nucleotide in cui si ha una singola sostituzione sul nucleotide che porta generalmente quando non è silente a una differente sequenza amminocidica e quindi una differente attività diciamo una differente proprietà chimico-fisica della proteina che viene espressa sono tantissime una volta si pensava fosse ero relativamente poco adesso sono state nel progetto mille variomi si chiama varioma diciamo l'entità globale delle variazioni genetiche sono state identificate già 40 milioni di variabili di cui molte molte delle quali sono degli SNIP probabilmente saranno 50 milioni questo significa semplicemente che al di là dell'aspetto qualitativo che ovviamente è fondamentale la differenza quantitativa fra me e chiunque altro sia da questo tavolo o fra voi è quantitativamente simile a quella che separa noi da uno scimpanzé quantitativamente speriamo allora che cosa ce ne frega rispetto all'alimentazione chi lavora in laboratorio ci ha lavorato insomma comunque segue la letteratura anche di questo livello sa benissimo che per esempio strain di animali da laboratorio diversi reagiscono in maniera completamente diversa a stimoli nutrizionali per esempio il tipo bulb reagisce alla somministrazione di olio di mais piuttosto che non all'olio di cocco in maniera completamente diversa rispetto all'espressione di trigliceridi vedete che il comportamento è completamente diverso i bulb sono completamente insensibili all'olio di cocco invece lo strain C57 è evidentemente significativamente interessato a questo tipo di variazione nutrizionale anche noi anche se vi ripeto essendo così variabili quei topi sono figli di fratelli che erano figli di fratelli hanno una variabilità genetica bassissima non totalmente annichilita ma molto bassa pensate cosa succede in una comunità umana nello studio Framingham lo dovreste conoscere più o meno tutti è un piccolo paesino tipo Happy Days in cui fin dagli anni 50 si è seguita tutta la popolazione adesso mano a mano continuano a seguire si hanno una terza generazione se non sbaglio del Framingham e dove si sono aggiunti una serie di variabili e solamente per farvi vedere che la presenza di un polimorfismo a livello del gene che codifica per PIPAR che è un fattore descrizionale che è presente circa nel 5% della popolazione un po' di più nei maschi che piuttosto nelle femmine si ha una reattività completamente differente alla quantità di acidi grassi N6 Omega 6 e Omega 3 chi è portatore se volete chi ha quel tipo di profilo genetico ha un andamento completamente diverso rispetto a chi non è portatore questo che significa che quando vi trovate a dover somministrare a dover predisporre un profilo dietetico a una persona dovete tenere da conto che possa esistere la possibilità che il consumatore reagisca in maniera totalmente diametralmente opposta non per motivi misteriosi ma perché ha un profilo genetico che lo predisporre questo potrebbe essere ovvio io il mio non so come si dice paziente uno che viene a chiedere la persona la seguo quindi vedo se la cosa non funziona modulo la dieta in maniera diversa questo vi ripeto quello che dicevo prima in questo momento non sono a disposizione dei test genetici che permettano di capire se Mario Rossi reagirà così o cos'ha non ci so non ci sperate per i prossimi anni non ci saranno è una cosa molto complicata questi sono esperimenti fatti su grandi numeri in cui sono stati isolati i quintili quindi il quintile che consumava tanti acidi grassi qui quintile là vediamo che tipo di genoma hanno è una cosa molto 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 diversa da prendere il signor Mario Rossi ah tu hai questa variante all'elica quindi quindi niente non si sa ancora calma anche perché poi tra l'altro non sappiamo qual è la frequenza di questo polimorfismo nella nostra popolazione arriviamo all'epigenetica l'epigenetica riguarda quelle modifiche del genoma che non sono attribuibili a variazioni della sequenza e sono dei fenomeni che si conoscono da più di 50 anni che sono stati per lo più fino a pochi anni fa legati alla morfogenesi fetale insomma alla morfogenesi perché nel corso dello sviluppo fetale ovviamente devono essere accesi e spenti determinati geni perché ogni cellula dalle cellule totipotenti fino a quelle specializzate facciano quello che devono fare e non tutt'altro infatti queste modifiche che vengono accumulate nel corso della morfogenesi poi vengono azzerate completamente a livello del subito dopo lanfimisti insomma però alcune no alcune resistono e quindi vengono ereditate a loro volta quindi in qualcuno dettagli la marca c'era ragione però no non è così non è che la marca c'era ragione però sicuramente alcuni fenomeni alcune esperienze chiamiamole possono essere trasmesse le conseguenze di alcune esperienze nutrizionali ma anche adesso è un grande fiorire di esperienze stressanti in generale tipo la scossetta nel ratto che poi viene associata a qualche altro stimolo nutrizionale o di luce che viene ereditata anche dalla seconda generazione e la cosa più interessante di tutto questo è che questo avviene sia in forma materna che è relativamente comprensibile perché la progenie eredita una parte di soma materno ma anche per via paterna e la cosa resta un attimo così evidentemente bisogna realizzare che uno degli assiomi originali è che viene un po' a mancare ovvero che l'ambiente è in grado in qualche modo di modulare appunto non come sequenza ma come modulazione epigenetica a livello delle cellule germinali anche del del BAPO comunque ci sono diversi tipi di modifiche epigenetiche e diciamo che adesso ci concentriamo solamente su una su quelle modifiche della cromatina che sono dovute all'aggiunta di gruppi metilici o acetilici a livello delle basi o degli stoni e che quindi alterano l'espressione genica come la alterano? bloccando la trascrizione laddove ci sono dei gruppi metilici a livello soprattutto della zona del promotore dove si attaccano fattori trascrizionali che poi danno o altri fattori che comunque danno poi inizia la trascrizione si blocca la trascrizione stessa e quindi si blocca l'espressione del genere questo l'abbiamo già detto c'è una piccola parte di queste modifiche che può essere ereditata quindi in generale si parla di una morbida ereditarietà delle caratteristiche acquisite che non è proprio quello che diceva la marca come funziona cosa ci azzecca come dicevamo prima questo con la nutrizione uno dei primi esempi che si sapeva erano questi bellissimi topini che hanno il genoma assolutamente uguale sono i topi dello strain detto aguti sono questi più chiari quando questi topi quando la mamma di questi topi quando alla mamma di questi topi viene somministrata una dieta ricca in gruppi metilici queste topine smettono di fare una progenie che come loro è ben predisposta a qualche cosa che assomiglia molto alla sindrome metabolica fanno dei topini molto più scuri e molto più sani quindi la disponibilità di gruppi metilici alla madre condiziona non solo in qualche modo la salute della madre ma condiziona un fenotipo che non è per quello che ci riguarda esclusivamente quello del colore del pelo ma anche quello di una predisposizione a una malattia metabolica molto 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 importante come dicevo tutto questo adesso viene affrontato sia dal punto di vista della trasmissione di questi caratteri chiamiamoli acquisiti non dite in giro che dico la trasmissione di caratteri acquisiti che mi ritirano la laurea però c'è questa trasmissibilità di una modulazione della modulazione dell'effetto di un'esperienza sia a livello materno che a livello paterno e questo sta rendendo la vita dei ricercatori ancora un po' più complicata di quello che fosse precedentemente l'ultimo livello di complessità a cui vi volevo far pensare è che quando noi parliamo di un alimento in realtà parliamo di una quantità di oggetti spropositata molto spesso questo non viene fatto chi si occupa di che ne so di polifenoli peraltro anche io mi occupo molto spesso di polifenoli nel vino ci stanno i polifenoli nel vino ci stanno duemila cose nell'olio d'oliva ci sono circa due me ne so fatte cagare circa duemila differenti composti e la variabilità della composizione anche considerando delle categorie estremamente standardizzate in Italia abbiamo questa fortuna che in teoria l'olio d'oliva dovrebbe essere quello e non altro abbiamo delle differenze estremamente significative nell'ordine di un ordine di misura nel contenuto di per esempio polifenoli o di vitamina E o di vitamina A o di quant'altro quindi anche in questo caso ho fatto una rapida carrellata di tutte queste di queste complicazioni che ci che 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 ci frega di queste complicazioni il problema è questo che in generale se si rompe la scala mobile di quella stazione lì ho preso la metropolitana di Londra e se piavo quella di Roma non è che era significato se piace vince facile se si rompe la scala mobile di una stazione singola poi in realtà il problema non si limita alla stazione in cui si è rotta la scala mobile ma si ripercuote probabilmente d'altre parti un po' come quel film sliding doors che c'era quella ragazza che stava chiusa fuori o passava in funzione dentro una metropolitana se mi ricordo bene e a seconda dell'evento succedeva una serie di eventi a catena che era straordinariamente significativa e noi abbiamo questo esattamente questo fenomeno a questo fenomeno di prima scusate si aggiunge il fatto che in base alle differenze genetiche fra individui noi abbiamo di fronte a noi la mappa della metropolitana di Londra invece ci troviamo a Seul o quasi anche se vi ripeto se ci fate caso le metropolitane sono tutte uguali hanno una circle line una northern line una western line e qualche altra cosa che passa in diagonale sono tutte uguali però se io voglio andare a piccadigli usando la mappa della metropolitana di Seul non è facilissimo e se poi considero che poi ci può essere qualche fenomeno epigenetico mi ritrovo a Barcellona a Madrid a parte scherzi abbiamo la combinazione di fattori nutrizionali fattori genetici che a loro volta variano una volta quella parte lì del genetic susceptibility era fissa invece ho dovuto modificare la deposita e fa muove pure quella perché se ci sono degli alimenti che sono in grado di modulare l'epigenetica allora si modifica anche la genetica che determinano il rischio di patologia o se volete la possibilità di restare sani che è una cosa un po' più complicata che abbiamo detto a tutto questo si aggiunge gli avanzamenti della scienza che hanno portato una nuova terminologia che è questa omica si riferisce a omico tutto ciò che rappresenta il totale rappresentato da un organismo per cui c'è un trascritto un gene trascritto e c'è il trascrittoma che è l'insieme di tutti i geni trascritti in un determinato momento da un determinato organismo tessuto cellula quello che vi pare quindi abbiamo trascrittoma proteoma metaboloma epigenoma e quant'altro a questo si è giunta un nuovo termine che è quello di nutrigenetica e nutrigenomica c'è praticamente due principi interdipendenti uno è che specifici profili nutrizionali possono modulare direttamente o indirettamente l'espressione genica modulando quindi la possibilità di essere sani o malati e che i profili genetici individuali sono in grado di modulare a loro volta questa relazione quattro minuti vado avanti pensavo di essere più rapido vi faccio un esempio per dirvi che in questo momento quello che noi cerchiamo di fare a livello di ricerca è molto spesso non tutti è quello di fare degli studi che si chiamano proof of principle cioè noi già sappiamo quello che succede lo fai perché ti serve una conferma molecolare e ti serve l'identificazione degli attori di qualche cosa che succede allora in questo caso vado veloce scusate mi dispiace molto vi presento rapidissimamente uno studio che abbiamo pubblicato recentemente sull'analisi del trascrittoma ottenuto le cellule endoteliali dei cordoni ombelicali delle gestanti che erano malati di diabete gestazionale sapete tutti che cos'è tutto quanto ora chi ha avuto il diabete gestazionale predispone i figli a essere in età adulta proni a malattia metabolica e questo ha una bassissima spiegazione genetica che invece ha un peso un po' più forte in altri casi di malattia metabolica quindi abbiamo preso questi cordoni ombelicali che sono degli annessi fetali che sono stati sottoposti a iperglicemia per nove mesi quindi una situazione cronica di iperglicemia e siamo andati a vedere come questa situazione di iperglicemia che non può essere facilmente mantenuta in laboratorio su cellule in cultura ha potuto modificare sia il trascrittoma che potenzialmente alcuni aspetti epigenetici vado velocissimo per dirvi che questo tipo di approcci omici generalmente richiede un grossissimo intervento di tipo bioinformatico che non è quello che fa il computer dietro al computer ci stanno una serie di metodologie informatiche che sono estremamente complesse semplicemente per arrivare da un chip da un elemento di analisi a un'analisi dei percorsi metabolici c'è un lavoro infernale che molto spesso è composto di matrici di milioni di dati ve la faccio rapidissimo in base a queste analisi abbiamo identificato una serie di geni che codificavano per diversi percorsi metabolici non soddisfatti abbiamo fatto un altro tipo di analisi che è quella che si chiama data interrogation la data interrogation faccio due minuti è quel tipo di analisi che si fa partendo dal presupposto che se qualcuno faccio un esempio un po' stupido non si è lavato la scella dentro all'autobus non è solo lui che è un problema quindi se io identifico una modifica nell'espressione di un gene è possibile che anche altri geni la cui espressione non è alterata possano essere influenzati questo si chiama data interrogation e si fa su sistemi bioinformatici quindi in base a questa data interrogation abbiamo ampliato la quantità di geni potenzialmente coinvolti in queste glicemia cronica abbiamo costruito una mappa di percorsi metabolici e qui sto alla chiusura ve lo dico rapidissimamente identificando un gene che è il TGFB2 che poteva essere potenzialmente un candidato per una modifica epigenetica che poi è stata riscontrata a livello sperimentale a questo punto molto più facilmente avendo già il target abbiamo verificato che era modulato epigeneticamente lo sapevamo già che era qualche cosa che riguardava quel percorso però abbiamo identificato la possibilità di utilizzare questo gene come un candidato marker per la presenza di una modifica epigenetica trasmessa dalla madre transgenerazionalmente al figlio ringraziandovi per l'attenzione vi lascio questa frase che trovo illuminante soprattutto perché apre alla possibilità di questo nuovo approccio metodologico scientifico che è quello della scienza della complessità che è del Dalai Lama che per quanto ne so io di scienza non capisce niente però secondo me in questo caso ha espresso perfettamente la necessità di pensare la scienza in un modo diverso da come si è pensato adesso e questo interessa inevitabilmente anche la nutrizione e in generale la salute dell'uomo grazie puntualissimo interessantissimo lascio spazio a qualche domanda cerchiamo di essere se possibile sintetici sia nella domanda che poi eventualmente grazie Fabio io sono una collega dell'IRRAN e quindi ti faccio la domanda da collega mi ha fatto molto piacere di questa ultima parte di questa tua presentazione perché ci fa vedere una cosa e mi dispiace che non ci sia stato tempo per vederla in maniera anche più dettagliata ci fa vedere una cosa che per questa platea ma anche per me che faccio salute pubblica quindi non faccio il tuo mestiere il tuo mestiere lo capisco anche poco forse è importante trasmettere allora ci capita ne parleremo più tardi di vedere e ne abbiamo discusso tanto io e te di vedere la vendita di pacchetti di test genetici per il gene dell'insulina per quello dell'esercizio fisico abbiamo visto aberrazioni varie questo fa capire a me quanto un gene ci dica poco e volevo un commento tuo su questa cosa che è più autorevole di quello che ho capito io adesso le bara perché in realtà abbiamo parlato tantissimo di questi test e noi in effetti la vedete sicuramente ne avrete sentito parlare di questi test sui quali io non mi posso pronunciare nel senso che credo siano inutili mettiamola così la voglio prendere in maniera estremamente soft perché non sono in grado di fornire nessun elemento addizionale a una buona pratica in scienza e coscienza di un dietologo certificato con esperienza e dedizione nel senso che la conoscenza nella migliore delle ipotesi i kit che vengono venduti credo che forniscono meno di 20 varianti genetiche 20 varianti genetiche su un totale abbiamo detto di circa 40 milioni fa ridere e fa ridere perché la penetranza si chiama penetranza la capacità di una variante genetica di esprimersi nel fenotipo la penetranza di questi geni generalmente salvo pochissimi casi che sono quelli che poi generalmente portano a patologie non lo so la corea o la demia mediterranea o cose di questo la microcitemia queste cose qui se tu c'hai quel gene c'hai quella patologia punto non si discute hanno una penetranza bassissima perché la penetranza il fenotipo è l'effetto della combinazione delle espressioni di più geni quindi sapere che 16 geni poi tra l'altro vengono definiti in maniera molto cialtrona molto spesso e qui mi voglio sbilanciare in maniera molto cialtrona come il gene dell'insulina come se il percorso complessissimo appena accennato dalla collega prima potesse essere modulato da un gene non scherziamo per favore perché ah poi tra l'altro invece una cosa più grave è che molto spesso questi kit si propongono di escludere dalla dieta alcuni alimenti che possono avere invece una grossa importanza per l'alimentazione umana quindi il bravo dietologo trova una strada la genetica secca non la trova perché è falsa tra le altre oltre a questo che appunto Fabio riporta vorrevo sottolineare anche la pericolosità in qualche modo perché sulla base per esempio del profilo diciamo della predisposizione alla celiachia di Q2 e di Q8 su questo vengono impostate diete senza glutine senza nessuna diciamo manifestazione né clinica né diagnosi e questo è un danno diciamo a vari livelli questo è un aspetto se posso volevo aggiungere un invito un invito che vi voglio fare questo tipo di test nel futuro sarà destinato ad aumentare ci sono due approcci ce n'è uno molto serio che gradisco sono per esempio su alcune singole patologie o singoli aspetti del rapporto nutrizione e salute tipo 20 varianti alleliche su un singolo rischio beh già cominciamo a vederci qualche cosa però nonostante questa possibile penetranza del test direi molta cautela se mi regalate un attimo di secondi di tempo per la vostra iperglicemia mi permetto un anedoto noi abbiamo fatto uno studio che riguardava la predisposizione all'alopecia androgenetica perché è una non so se è una patologia non so comunque è un evento è un fenotipo che può essere tracciato molto bene nel tempo perché io so anche se mio nonno aveva i capelli o no qualcuno anche il bisnonno ha una componente nutrizionale importante ed è modulata da una quindicina da una ventina di varianti alleliche abbiamo avuto dei grossissimi problemi di tipo etico perché questi geni si popolano quasi tutti vi viene da ridere perché il problema c'è adesso ridere te anche voi sono sicuro perché tutti questi geni sono la maggior parte di questi geni 90% di questi geni sono i nemizigosi stanno sotto il cromosoma Y perciò se io vi vado a fare questo test e poi ci va mio figlio e uno dei due non ha lo stesso profilo io mi spiego perché mio figlio assomiglia tanto al lattaglio ora se succede a me c'ho le corna poco male ma se succede al principio l'inghilterra ci sono questo per invitare se volete un giorno a fare un 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 convegno un meeting un workshop quello che vi pare ad hoc sull'utilizzo delle piattaforme to the consumer perché non quello che facciamo noi o voi anche nella vostra attività anche di ricerca se la fate contemporaneamente a quella pratica di ricerca di queste piattaforme di identificazione del profilo genetico non siamo pronti legalmente moralmente eticamente non siamo pronti a fare un in termini anglosassoni è not ready for the consumer cioè lo possono fare solo gli stakeholders quelli che sanno quello che fanno e non lo devono nemmeno dire al paziente perché possono creare dei grossissimi problemi un giorno appunto ma come mi hai fatto scoprire che mi muoio e mi mette i corno mica è colpa mia però potrebbero essere dei gravi problemi poi tante altre cose questo ve lo dico ma chi si è occupato dei test genetici si trova molto spesso di fronte a problemi di questo genere grazie davvero sicuramente cogliamo la possibilità di approfondire l'argomento eh dottore Zocchi lo prendiamo come un nostro diciamo un impegno a poterlo fare ringrazio tutti i presenti i relatori di questa sessione che spero sia stata interessante per voi che spero sia stata